Ehi, tu sai come acquistare e vendere gli NFT? Eh sì, perché oggi acquistare e creare i propri NFT è relativamente facile. Esistono innumerevoli piattaforme che offrono questa possibilità utilizzando la blockchain, con modalità, costi e condizioni differenti. Per un collezionista acquistare un NFT significa aprire il proprio account sulla piattaforma, registrarsi o collegare il proprio wallet, acquistare l'opera scelta che troverà poi all'interno del suo account o wallet per decidere se rivenderla in futuro oppure accettare l'offerta degli altri utenti seguendo le modalità di vendita della piattaforma. Un artista invece dovrà scegliere su quale piattaforma open vendere e creare liberamente i propri NFT oppure candidarsi per essere selezionato dalla piattaforma definita curated dove un comitato sceglie quali artisti possono vendere le proprie opere. Accettare così i termini e condizioni della stessa e creare il proprio profilo pubblico indicando il sito, social network e poi creare i propri NFT inserendo immagini o video, un titolo, un breve testo di descrizione ed infine il prezzo e la modalità di vendita. Ogni piattaforma ha le sue modalità, condizioni e soluzioni differenti e spesso anche tipologia di artisti e collezionisti che la utilizzano. Prima di usarle è bene conoscerle molto attentamente e se questo ti interessa per scoprire molto di più non ti resta che leggere CryptoArte tutto quello che devi sapere su NFT, arte digitale e blockchain.